Buongiorno a tutti, iniziamo fra pochi secondi il webinar sur Microflex Advance attendiamo solo che si colleghi qualcun altro dei registrati e poi partiremo ok iniziamo il tema di oggi come abbiamo già accennato è sur Microflex Advance vedremo quali sono i componenti del sistema in particolare l'MX A910 e l'MX A310 e poi ci sarà ovviamente un'integrazione con gli accessori o meglio gli oggetti che integrano il sistema che utilizza queste tecnologie ci occuperemo brevemente della suite cosiddetta Intellimix il DSP che è a bordo della serie MX A e poi guarderemo quali sono le opzioni e le feature di integrazione del sistema come Power of Red, Ethernet e Dante in particolare e dopodiché daremo un'occhiata anche all'interfaccia web e agli strumenti di gestione e programmazione innanzitutto che cos'è la suite Intellimix il primo il primo fattore importante scusatemi se mi sono interrotto un attimo perché sento l'audio di qualcuno di voi che deve aver aperto il microfono inavvertitamente ok perfetto la prima feature importante segnalare è la copertura stirable quindi che è il punto di forza e la caratteristica fondamentale di questi oggetti che sono sostanzialmente degli array microfonici che utilizzano la tecnologia di beamforming per la conformazione dei lobby di ripresa parleremo velocemente anche dell'automixer integrato del DSP inteso come equalizzazione e altro processing direttamente a bordo di MXA e faremo un cenno anche alla riduzione dell'eco solo un cenno perché in realtà di riduzione d'eco si tratta e non di cancellazione di acqua acustica il primo prodotto della serie è appunto MXA 310 come vedete dalle immagini in realtà è disponibile in tre colorazioni ma al di là di questo si tratta di un microfono da tavolo che grazie alla tecnologia beamforming crea fino a quattro diagrammi polari di ripresa oltre alla possibilità di creare un nuovo diagramma polare chiamato toroidale che è stato brevettato da Shure per una ripresa a 360 gradi ma con delle caratteristiche particolari sono questi prodotti abilitati alla trasmissione di segnali via d'ante sono prodotti che infatti tramite un semplice cavo di rete vengono alimentati ma trasmettono direttamente l'audio su una rete Ethernet standard con il protocollo Dante appunto come vedete anche dall'immagine ci sono dei led di stato multicolore che sono anche programmabili e sono a bordo fino a 10 preset di configurazione che permettono quindi di adattare il comportamento del microfono a diverse situazioni nella sala conferenza vi dicevo che ognuno delle MXA 310 è in grado di creare fino a quattro lobby ciascuno di questi quattro lobby in realtà è configurabile con un pattern diverso che è l'omnidirezionale che comunque è quello per certi motivi sicuramente meno utilizzato sarà quello meno utilizzato oppure dei pattern come il cardioide, il supercardioide, l'ipercardioide e il bidirezionale questo per ciascuno dei quattro lobby che vengono generati quindi la regolazione che si potrà fare oltre alla scelta del tipo di pattern è proprio l'azimuth, l'angolo di ripresa che è assolutamente libero e potremo vedere qualche secondo direttamente da un'interfaccia web dimostrativa che vengono regolati e modificati semplicemente da una pagina web una standard pagina web ciascuno dei quattro lobby o fino a quattro lobby viene trasmesso direttamente sulla rete d'anti in modo indipendente e un quinto canale che è rappresentato dall'automix di questi quattro lobby che può essere utilizzato per andare direttamente a un processore che non è dotato di automixer viceversa invece i quattro canali indipendenti possono essere utilizzati per arrivare a un processore che invece è dotato di un DSP più avanzato che integri quindi la funzionalità di automixing cosa si può fare quindi con un array microfonico da tavolo come MXA310 questo è un esempio applicativo che fa vedere innanzitutto due aspetti uno è quello della configurabilità dei quattro lobby per una ripresa a 360 gradi ma puntuale quindi puntando direttamente sul partecipante alla tele videoconferenza secondo aspetto la possibilità per tavoli di dimensioni più grandi la possibilità di aggiungere altri microfoni che essendo connessi in rete comunque possono essere gestiti tramite Dante da un singolo DSP per creare configurazioni con microfoni multiple quindi per arrivare ad una copertura di un numero di utenti ovviamente superiore a quattro anche se il quattro non è proprio il limite del singolo microfono perché dipenderà ovviamente dai pattern e dalle distanze e dalla conformazione del tavolo e da tanti altri fattori ma ripeto si potrà arrivare anche a configurazioni da quattro, dodici, sedici persone tranquillamente proprio perché i microfoni possono essere ampliati numericamente vi accennavo anche all'inizio ad un lobo particolare brevettato da Shure un lobo con un pattern di tipo toroidale che ha la caratteristica diciamo similare a quella di un omnidirezionale cioè di una ripresa a 360 gradi ma che però ha una fortissima reazione per tutto ciò che arriva dall'alto quindi sull'asse di questo toroide fondamentalmente non vengono o comunque vengono fortemente attenuati tutti i rumori come ad esempio i sistemi di areazione piuttosto che di ventilazione come quelli di un proiettore eventualmente presente in sala quindi un lobo molto particolare che facilita la ripresa tutto attorno al microfono però ripeto con una forte reazione per tutto ciò che arriva dall'alto in particolare dai rumori di fondo l'oggetto MXA310 è implicitamente un dispositivo di rete per quello che abbiamo detto ed è configurabile con una semplice pagina web quindi accedendo all'indirizzo IP del dispositivo si potranno scegliere dei template che successivamente possono essere modificati per una rapida configurazione del sistema stabilendo quindi alla fine quello che sarà la ricezione l'angolo di ricezione di ciascuno dei lobby qualche applicazione ad esempio un tavolo quadrato dove con un singolo array da tavolo e 4 diagrammi polari ad esempio super cardioide si fa una ripresa e si sostituiscono di fatto 8 microfoni GUSNEC oppure una situazione di tavolo rettangolare dove le soluzioni possono essere due a seconda della dimensione del tavolo o l'utilizzo di due pattern di tipo cardioide quindi più ampio e due pattern di tipo super cardioide quindi leggermente più stretto per una ripresa ad esempio dei due capotavola e con il cardioide invece dei partecipanti diciamo sui lati lunghi del tavolo oppure sul lato destro l'alternativa costituita da due MXA310 configurati o come omni direzionale o aggiungo io come con pattern toroidale oppure con l'utilizzo di tre lobby per ciascuno dei due ad apertura di super cardioide vedete quindi con questi esempi come in realtà la configurazione del dispositivo può essere adattata ovviamente a diverse esigenze a diverse dimensioni della sala e in particolare del tavolo quindi con un numero diverso di oratori e disposizione degli oratori il led che è visibile in questa immagine è interessante perché può essere programmato viene utilizzato tipicamente in configurazione di default come indicazione dello stato di mute di tutti i lobby in quel caso diventerà rosso o di tutti i lobby aperti in questo caso diventerà verde come nell'immagine ma può essere programmato anche per andare a evidenziare lo stato di mute o di microfono aperto per singolo lobo quindi dando anche un'indicazione effettiva della direzione dal quale il singolo lobo sta captando il segnale rimarchiamo alcuni aspetti relativi alla connettività in particolare il dispositivo alimentato PoE e si integra quindi in una rete Ethernet standard l'audio viene trasmesso tramite protocollo Dante abbiamo visto precisamente 5 canali di cui 4 che sono i singoli lobby e uno è l'uscita dell'Intelli Mix integrato nel microfono stesso nella rete di microfono stesse in più ovviamente essendo implicitamente un dispositivo di rete è anche controllabile da terze parti sempre tramite protocollo TCPP quindi integrazione con sistemi di controllo classic Amix, Crestron o d'altri è ovviamente sempre possibile qui è rappresentata una sintesi delle specifiche non mi soffermo sui dettagli se non per far vedere alcuni concetti abbastanza semplici ma importanti un consumo di 4 watt una dimensione molto compatta un diametro di circa 13 cm e un peso di 362 grammi quindi un oggetto comunque molto compatto che installato al centro del tavolo grazie anche a un po' di design accattivante che avete già visto nell'immagine riesce a creare facilmente una sala molto pulita l'altro aspetto su cui voglio far cadere l'attenzione è l'uscita digitale Dante che abbiamo già però descritto abbastanza e la sensibilità la sensibilità che è a meno meno 21 dB fondo scala per Pascal quindi un microfono comunque molto sensibile che diventa caratteristica diciamo importante soprattutto perché la ripresa come potete immaginare avviene a distanza potete immaginare che la distanza tipica possa aggirarsi attorno al metro però di conseguenza non siamo sicuramente molto vicini alla bocca del parlatore quindi una certa sensibilità oltre a la conformazione cardioide ipercardioide supercardioide che abbiamo detto diventa assolutamente necessaria risposta in frequenza solo per farvi vedere quanto comunque sia lineare la risposta in frequenza dai 100 ai 20k dai 100 Hz ai 20k e qui una breve carrellata dei diagrammi di radiazione dei pattern non scusate di radiazione dei pattern microfonici che possono essere implementati direttamente in MXA310 con le figure tipiche insomma cardioide supercardioide ipercardioide e bidirezionale per ultimo c'è il classico scusa non il classico il brevettato pattern toroidale che vedete in particolare in basso a destra nella sua sezione verticale fa capire la forte reiezione per tutto ciò che arriva dall'alto sostanzialmente facilità di installazione singolo cavo di rete che porta all'alimentazione e l'audio in più c'è la compatibilità con fori eventualmente già fatti con precedenti microfoni e sure con fori da 2,5 cm che permette un'installazione fissa a tavolo con vite e di installazione assolutamente in dotazione vite che permette di far passare il cavo sotto il tavolo e quindi per fare un'installazione assolutamente semplice e pulita il risultato di un'installazione che utilizza MXA310 è quella rappresentata dove è presente un tavolo con più MXA310 connessi semplicemente in rete tramite un cavo categoria 5 o superiore che arrivi a un rack di apparati dove ovviamente si è presente uno switch PoE dalla rack di apparati ovviamente escono le connessioni tipiche dall'amplificatore o usciti tipo linea per arrivare a casse amplificate che in questo esempio sono state installate parete e poi una connessione Ethernet per la programmazione da computer e da semplice pagina web può essere come nell'esempio anche ovviamente integrato tutto avendo un DSP installato nel rack o un mixer di altro tipo installato nel rack anche l'integrazione con altri microfoni come nell'esempio un microfono a mano ma nulla vieta di utilizzare anche tutte le altre soluzioni Shure presenti al catalogo i punti di forza quindi per sintetizzare MXA310 sono audio interamente digitale su rete Dante copertura orientabile per speaker multipli web server integrato funzioni di auto setup e template che sono preconfigurati nel software di gestione che tra l'altro non è altro che mi ripeto una semplice pagina web passiamo adesso MXA910 potremmo dire il fratello maggiore del 310 in questo caso questo array di microfoni per installazione a soffitto è in grado di generare fino a 8 pattern tridimensionali vediamo cosa intendo con tridimensionali anche in questo in questo caso la configurazione può essere manuale dei lobby tramite pagina web ma è disponibile anche una modalità di autoconfigurazione i singoli canali sono indirizzabili direttamente su rete Dante quindi una rete standard ancora una volta e sono sempre a disposizione dei template da cui partire facilmente per la configurazione ottimale per la singola installazione il punto principale anche in questo caso è la copertura steerable quindi la possibilità come è rappresentato in questo screenshot della pagina web principale di configurazione la possibilità di creare dei lobby che vanno a fare una ripresa puntuale dal soffitto verso i parlatori che si sono seduti attorno ad un tavolo per la video o in generale teleconferenza i singoli canali vi dicevo in questo caso sono 8 più l'uscita in telemix quindi per un totale di 9 canali vengono trasmessi direttamente su rete Dante esiste poi un canale di ritorno per la suppressione dell'acqua acustica quindi questo è il classico riferimento per il cancellatore d'eco in questo caso però non si tratta di cancellazione d'eco acustica ma è un meccanismo di riduzione dell'eco che fondamentalmente si occupa in automatico di chiudere i lobby e quindi evitare rientro per chi da remoto sta parlando rientro del segnale ma non si tratta effettivamente di una cancellazione d'eco acustica per la quale è consigliato ovviamente un processore dotato di ASE i singoli lobby oltre che orientabili diciamo in tre dimensioni verso i parlatori sono anche configurabili in termini di apertura in particolare sono disponibili tre gradi di apertura stretta media e larga per riuscire a focalizzare di più su un parlatore o viceversa allargare la ripresa a due o più parlatori contemporaneamente in questa animazione si può intuire quello che si riesce a fare quindi con i lobby di ripresa dall'alto in termini di settaggi vediamo rapidamente anche la corrispondenza dei diagrammi di polari per le tre apertura larga media e stretta che corrispondono a dei pattern tipici dei microfoni shotgun in questo caso in questa rappresentazione vediamo addirittura che in particolare per le configurazioni media e stretta è sicuramente più stretto di un microfono tipico microfono shotgun altro aspetto quindi da considerare nella programmazione o comunque configurazione di questo sistema sono ovviamente i parametri di altezza tipica in questo esempio sono considerati 2.7 metri e ovviamente l'altezza dell'oratore tipicamente viene considerato 1.20 m in funzione dall'apertura ovviamente del singolo lobo quello che si ottiene è una area di ripresa diversa in particolare se andiamo a vedere in questo esempio la configurazione scusate la configurazione ad apertura media e a meno 3 dB si vede che si ha un'apertura un raggio diciamo di copertura indicativamente di 30 cm se non leggo se non leggo male scusate ma nella mia anteprima non ho una grande visibilità in ogni caso lo scopo di questo slide è quello di far vedere ovviamente come al variare della distanza e quindi in particolare della differenza tra l'oratore e il soffitto quindi il punto di installazione di MXA 910 e al variare dell'apertura del lobo ovviamente abbiamo un'area di copertura diverse qualche esempio quindi di applicazione sulla sinistra abbiamo un esempio di un tavolo 10 posti dove con gli 8 lobby si riesce a garantire una copertura di tutti i partecipanti sulla destra abbiamo un esempio di un tavolo addirittura da 28 posti dove con l'utilizzo di 14 lobby quindi 7 lobby per ciascuno dei due MXA 910 previsti in questo esempio si ha una copertura addirittura di tutti e 24 le postazioni altri esempi di applicazione sono configurazioni in cui il tavolo ovviamente non può essere sempre simmetrico quindi c'è la configurazione ad esempio a 21 posti sulla sinistra dove addirittura si potrebbe fare una completa copertura della sala con un singolo MXA 910 cosa similare nella configurazione diciamo modalità Classroom sulla destra da 16 posti dove ancora una volta con un singolo cylinder si riesce a fare una copertura di tutti i partecipanti alla teleconferenza è importante tener conto però ovviamente che per ciascuna situazione in funzione delle dimensioni l'acustica della sala e la dimensione la conformazione del tavolo è possibile fare un'analisi in fase di progettazione noi di Prase in particolare possiamo supportarvi con una simulazione direttamente in fase di progettazione in modo da fare la scelta più coerente ovviamente per ciascuna delle sale che dovreste progettare quindi come al solito da parte nostra massimo supporto in fase di progettazione una nota sull'intelligibilità in condizioni ottimali quindi con un RT60 un tempo riverbero molto ridotto in questo esempio 500 millisecondi e un livello di rumore mentale molto basso 40 dB SPL si riesce a ottenere con un'altezza di circa 3 metri una intelligibilità diciamo di stipa in classe A e questo lo si riesce a mantenere anche fino a un'altezza indicativamente di 5 metri in generale però ripeto tutte queste valutazioni vanno fatte con una considerazione attenta di tutti i parametri di progetto se disponibili come RT60 rumore ambientale ma soprattutto basandosi quindi su una concreta analisi della sala tenendo conto di com'è l'acustica della sala oltre ai fattori puramente dimensionali che diciamo con una soluzione tipo MXA 910 potremmo dire non sono quasi mai un problema perché si riesce a fare una copertura tranquillamente di circa 6 metri con un'installazione di 5 metri quindi ovviamente ci sono tutti i parametri a disposizione per poter affrontare qualsiasi progetto a livello di connettività ricordiamo ancora una volta che anche in questo caso l'alimentazione è PUE quindi anche diciamo il grosso array per pannelli 60x60 MXA 910 è semplicemente alimentabile dal cavo di rete il quale porta anche tutti i canali guidanti a disposizione essendo implicitamente un dispositivo di rete ancora una volta esiste la possibilità di controllo da terze parti via TCP l'installazione ripeto è assolutamente banale in quanto prevede la sostituzione di un pannello 60x60 nello standard europeo in realtà a disposizione anche il pannello 609-609 tipico dagli Stati Uniti ma che ovviamente noi consideriamo meno importante e nel caso di pannelli 625x625 è disponibile anche un adattatore potete intuitivamente pensare che l'installazione in questo caso consista nel far passare nel far passare un semplice cavo di rete nel controsoffitto e sostituire il pannello 60x60 con MXA 910 è a disposizione anche un junction box opzionale per facilitare il passaggio cavi esistono degli annelli di sicurezza per agganciare diciamo in sicurezza il MXA 910 esistono però anche oltre all'installazione tipica del pannello 60x60 nel controsoffitto la possibilità di fare installazioni a sospensione perché sono disponibili 4 anelli che permettono una sospensione di MXA 910 oppure un attacco VESA standard quello 10x10 che permette l'utilizzo di staffe standard presenti sul mercato ancora una volta per un'installazione a sospensione nel caso in cui non sia presente un controsoffitto schema di installazione tipico quindi cavo di rete nel controsoffitto che arriva ai pannelli agli array microfonici MXA 910 dal controsoffitto diciamo fino a raccaparati dove deve essere presento uno switch POE connessioni standard per la parte di amplificazione per arrivare agli speaker e ancora una volta eventuali cablaggi tipici analogici o wireless per altri microfoni presenti in sala e connessione di rete per la gestione della programmazione come accessori al sistema MXA sono presenti degli oggetti a catalogo che si chiamano Audio Network Interface in particolare ci sono sintetizzazioni utilizzando molto cinque modelli tutti diciamo dotati di quattro canali dei modelli a quattro ingressi su connettore XLR dei modelli a quattro ingressi su connettore Euroblock dispositivi questi quindi che acquisiscono degli ingressi analogici linea o microfonici per trasformarli in diciamo segnali digitali Dante molto più utili per l'applicazione invece MXA le rispettive versioni con quattro uscite sia su XLR che su Euroblock oppure la soluzione 2 più 2 che non è rappresentata su questa slide che è dotata di due ingressi e due uscite analogiche quindi altrettanti canali digitali Dante e la soluzione Ani USB Matrix che in particolare costituisce il prodotto con un ingresso e un'uscita su Euroblock ma dotato in particolare di porta USB che permette l'integrazione con sistemi di videoconferenza software come WebEx Skype for Business video eccetera insomma quei classici soft codec che ormai sostituiscono le soluzioni hardware di videoconferenza il vantaggio di questi oggetti ovviamente ancora una volta audio Dante su rete e alimentazione POE quindi facilità di installazione semplicità di installazione controllo tramite pagina web anche in questo caso preset di configurazioni let di stato e possibilità di controllo con sistemi di terze parti in particolare questi oggetti da quattro canali sono molto compatti sono a disposizione delle staff per l'installazione a rack oppure come rappresentato in questa immagine una semplice installazione singola o multipla perché occupano un terzo di unità rack direttamente sotto il tavolo essendo l'alimentazione e la connessione semplicemente un cavo categoria 5 o superiore ovviamente potete immaginare quanto facile sia l'installazione in una sala conferenza anche sotto il tavolo esempio di schemi a blocchi per soluzioni da teleconferenza in particolare anche esempi di conferenza con telefonia più classica standard vedete una soluzione in questo esempio di 2MXA310 connessi a uno switch di rete la ricezione di segnali avviene via Dante tramite un Ani4out che costituisce l'interfaccia analogica verso un DSP standard di terze parti e l'introduzione invece in rete di altri canali come sorgenti esterni avviene tramite un Ani4in l'uscita del DSP ovviamente va a un sistema di amplificazione quindi un sistema classico di diffusione quindi in questo esempio l'utilizzo di MXA310 con degli Ani permette e un DSP eventualmente di terze parti permette la gestione di una teleconferenza con un sistema analogico lo stesso vale con una soluzione identica ma in questo caso con un singolo MXA910 l'interfacciamento col sistema DSP avviene sempre in analogico tramite gli Ani4in e Ani4out ovviamente la stessa soluzione può valere con sistemi di videoconferenza di terze parti dove l'interfacciamento avviene sempre tramite un Ani4out poi abbiamo soluzione di invece dove la rizzazione dei segnali può avvenire tramite prodotti di Shure come l'SCM820 che è in grado di ricevere direttamente segnali Dante quindi un automixer di Shure fra poco vedremo anche una novità che si chiama P300 che è molto interessante in particolare per le sale conferenze dicevo l'automixer di Shure connesso alla rete Ethernet come semplicemente si fa anche per i due MXA910 poi il sistema di amplificazione standard per la sala e la realizzazione ovviamente è molto banale un acceno anche agli strumenti per gestire questi oggetti Shure che sono connessi in rete come in particolare i due modelli MXA che abbiamo visto fino adesso ma anche gli ANI piuttosto che l'SCM820 appena accennato adesso sul sito web di Shure trovate Shure Web Device Discovery un software free che permette di fare appunto il Discovery in rete di tutti i dispositivi di Shure gestiti da rete in questo esempio in particolare sono prodotti Dante ma in realtà questo vale per qualsiasi prodotto Shure dotato di interfaccia LAN in quel caso ovviamente quello che si ottiene è l'informazione relativamente all'indirizzo IP del dispositivo per aprire direttamente l'interfaccia web di configurazione altro strumento importante che potete trovare sul sito Shure fondamentale prima dell'installazione è la Shure Appotate Utility un'altra utility che è in grado di fare il discover dei dispositivi Shure dotati portadante o in generale di portalan in rete ma ovviamente come potete intuire dal nome in questo caso si tratta dello strumento per fare l'aggiornamento firmware cosa che come al solito consiglio di fare prima di qualsiasi configurazione al fine in primis di arrivare con un firmware allo stato dell'arte e in seconda analisi per avere un allineamento di tutti i firmware alla stessa versione che può essere fonte di malfunzionamenti che ovviamente è bene evitare fin dall'inizio altri software di cui ci si può o ci si deve dotare per un'installazione MXA sono i software di Audinet in particolare il Dante Controller per fare diciamo gli incroci della matrice virtuale Dante tra tutti i dispositivi in rete Shure e non Shure perché ovviamente tramite Dante l'integrazione può avvenire con processori DSP anche di terze parti nel nostro caso un esempio può essere Bayon Petesira versione Dante con scheda Dante o Forte versione Dante poi ci sono altri un altro paio di software interessanti che però sono a pagamento a differenza di Dante Controller sono la Dante Virtual Soundcard e Dante Via in particolare che sono degli strumenti che trasformano il vostro computer il vostro portatile in una scheda audio Dante quindi è in grado di ricevere o trasmettere canali Dante in particolare vi segnalo Dante Via che ha un costo veramente molto accessibile ma che per una fase di monitoraggio ma anche di test della rete con dispositivi Dante diventa molto utile vi faccio vedere rapidamente e poi questo link quando verrà condivisa la presentazione a valle del webinar lo troverete sarà a disposizione un link a una simulazione del DMXA 910 e fra poco vedremo anche lo stesso link per una simulazione invece dell'interfaccia web dell'MXA 310 dove potete vedere come si configurano i lobby manualmente semplicemente spostando con il mouse i singoli lobby o configurando il sistema diciamo manualmente dando delle informazioni su il posizionamento qui nella barra laterale partendo ovviamente dall'informazione basilare che è l'altezza di installazione e l'altezza tipica del parlatore non perdo molto tempo su questo strumento che però è molto utile ripeto per capire come funziona come si può programmare MXA 910 perché ripeto è un link online che vi permette di fare qualsiasi prova senza avere per forza sul banco di lavoro una MXA ma potete vedere tutte le configurazioni della light bar che diciamo nel caso del MXA 910 è solamente questo led che può essere anche disattivato oppure può essere personalizzato in termini di colori del led ma soprattutto potete vedere la funzionalità di automix e tutti i parametri che possono essere gestiti nell'automix in particolare anche eventualmente la customizzazione e potete andare a vedere canale per canale quello che si può attivare in termini di equalizzazione sul singolo lobo di un MXA 910 quindi in linea di massima questo strumento vi permette una simulazione completa ripeto senza avere un MXA sul banco di lavoro la stessa cosa vale per il 310 altro argomento di oggi è invece la serie MX Wireless MX Wireless di Shure è la soluzione invece di radio microfonia digitale che ha alcune caratteristiche fondamentali innanzitutto la scelta di Shure dello spettro DECT quindi come banda di utilizzo non è quella classica di radio microfoni bensì è quella della banda utilizzata tipicamente dai sistemi DECT quindi i cordless il motivo fondamentale è che è una banda comunque poco utilizzata quindi ci dà una garanzia di diciamo di affidabilità e sicurezza maggiore di altre bande però questo si unisce alla coordinazione automatica quindi il piano frequenza automatico che viene effettuato direttamente dal sistema per scegliere in ogni momento il miglior canale quindi non solo in fase di configurazione ma anche in caso di presenza di una nuova frequenza che va a intervenire il sistema MX Wireless è in grado di scegliere e cambiare in automatico il canale scegliendo quello migliore in ogni momento quindi lo spettro DECT unito a questa funzionalità diciamo di coordinazione dei canali automatica lo rende il sistema molto affidabile altri aspetti interessanti legati al fatto che il sistema è digitale la possibilità anzi non la possibilità il fatto che tutti questi canali che vengono trasmessi nella banda 1.9 vengono anche criptati con la S256 quindi diventa la soluzione MX Wireless molto interessante per tutti i contesti corporate settore bancario eccetera dove la criptazione è assolutamente mandatoria per motivi di riservatezza vediamo poi ulteriori dettagli nel resto della conferenza durante il resto del webinar in particolare la connettività anche in questo caso è su rete Dante quindi infrastruttura di rete Ethernet standard tutte le configurazioni possono avvenire tramite pagina web e il tutto mantenendo le classiche prestazioni e le affidabilità del marchio sure in termino di qualità e scelta dei microfoni lo vediamo più nel dettaglio nelle slide successive il fatto che il sistema anche MX Wireless sia un sistema che viaggia su rete permette quindi anche l'integrazione con sistemi terze parti con protocollo TCP e soprattutto permette il monitoraggio del sistema da pagina web anche per quanto riguarda lo stato di carica delle batterie cosa molto interessante perché le basi di ricarica del sistema sono delle basi di ricarica intelligenti monitorate tramite rete Ethernet e che quindi espongono tutta una serie informazioni molto utili all'integratore o comunque a chi sta facendo eventualmente il service con un sistema di radio microfoni come questo una nota sulla latenza non c'è la latenza solo del sistema Dante che implicitamente vi dicevo essere il mezzo di trasporto dei canali digitali in rete ma il fatto che il sistema sia digitale in particolare che venga applicata una criptazione purtroppo introduce una latenza che deve essere considerata che è pari a 18 millisecondi quindi è bene tenere conto in fase di progettazione anche di questo limite se vogliamo dire di 18 millisecondi che però assolutamente nelle applicazioni di tipo conferenziale non sono assolutamente un problema vediamo come è composto il sistema dal punto di vista dei trasmettitori sono disponibili tutte le soluzioni tipiche dei radio microfoni SURE quindi il body pack il cui codice è MXW1 al quale può essere quindi collegato un microfono lavalier o un archetto standard presente nella gamma di microfoni SURE ma che comunque integra anche un microfono omidirezionale direttamente nell'unità stessa ci sono soluzioni di tipo boundary MXWireless 6 versione O come omni oppure C come cardioide che sono sostanzialmente questi microfoni che si appoggiano sul tavolo e che permettono quindi una ripresa da lontano senza avere il microfono insomma vicino alla bocca di ogni parlatore poi ci sono i classici microfoni a mano in questo caso il codice MXW2 con a disposizione le classiche capsule SURE in particolare SM58 BET58 eccetera ed infine molto utili e forse sono la peculiarità più importante del sistema MXWireless le basi per microfoni a collo d'occa in questo caso il codice MXW8 sui quali si possono montare i Gusnek 405 410 415 di SURE della serie MX vi dicevo quindi il trasmettitore bodypack questo nell'immagine che contiene anche un microfono omnidirezionale integrato e un'uscita per un'uscita cuffia lo scopo dell'uscita cuffia che è presente in questo oggetto nel boundary e anche nelle basi da tavolo è di poter avere un canale di ritorno che arriva sempre tramite Dante e poi tramite wireless su banda DECT un canale di ritorno che potrebbe essere un monitor oppure ad esempio una lingua di traduzione feature che rende MXWireless appettibile anche per applicazioni leggermente diverse quelle tipiche della sala conferenza poi ci sono i microfoni a mano come vi dicevo con la possibilità di avere capsule di diverso tipo il boundary molto interessante che a volte viene usato nella pratica spesso anche come un microfono a mano o a volte viene inserito nel taschino per sostituire quasi un lavalier ovviamente questa non è la sua applicazione nativa però mi rendo conto che nella pratica diventa un oggetto molto molto versatile ed infine come vi dicevo la MXW doppio con i Gusnek e in particolare con un tasto per lo spegnimento e l'accensione del microfono come in qualsiasi microfono Gusnek tipico delle sale conferenza questo secondo me rappresenta l'applicazione principale di MXWireless perché permette come potete immaginare di creare una sala conferenza senza cablaggi sul tavolo e quindi con una flessibilità molto diversa e una pulizia dell'installazione ovviamente molto diversa rispetto alle installazioni standard l'elemento principale del sistema o potremmo dire il ricevitore del sistema è costituito dall'assess point un access point ovviamente dedicato perché lavora nella banda 1008 1009 scusate quella del DECT esistono quattro modelli rispettivamente da 2 4 8 canali che si chiamano MXW APT2 4 e 8 rispettivamente questo è l'oggetto che è in grado di di fatto di ricevere i canali trasmessi dai trasmettitori che abbiamo visto poco fa e convertirli in canali d'anti su rete Ethernet quindi ovviamente il modello da 2 4 e 8 canali rispettivamente ricevono fino a 8 microfoni in DECT li convertono in Dante li mettono in rete per essere ricevuti da un processore Dante SURE piuttosto che di terze parti come vi dicevo permette anche la bidirezionalità perché a gruppi di 4 canali questi access point permettono di avere un canale di ritorno disponibile sulla presa cuffie dei trasmettitori che abbiamo visto poco fa questo è l'oggetto che permette di fatto oltre che la ricezione e la trasformazione in Dante di fare la criptazione S256 la potenza è selezionabile per poter creare coperture e raggi di copertura diverse semplificando molto tipicamente la copertura in linea di vista di un access point di questo tipo si aggira intorno ai 50 metri anche in questo caso le interfacce ANI che abbiamo visto per MXA sono disponibili e sono utilizzabili anche per MXWireless in particolare qui accenniamo anche il modello da 8 canali quindi il modello che dispone in particolare di una porta Dante e di 8 uscite analogiche per ricevere fino a 8 canali da un access point come la PT8 quindi ovviamente nelle varie configurazioni in funzione delle varie necessità si possono utilizzare i modelli ANI 4 o ANI 8 per una conversione diciamo Dante analogico e viceversa perché anche in questo caso si hanno la possibilità di mandare due canali di ritorno la base di ricarica infine le base di ricarica esistono per tre modelli anche in questo caso da 2 4 e 8 canali come vedete nelle immagini la base di ricarica però come vi dicevo non è semplicemente un oggetto per ricaricare le batterie che comunque hanno un'autonomia nominale superiore alle 8 ore viene dichiarata un'autonomia di 9 ore e un tempo di ricarica completa di 2 ore bensì è un oggetto intelligente controllato da rete che permette il monitoraggio dello stato delle batterie e precisamente quando gli oggetti sono inseriti il tempo che viene visualizzato nella pagina web è il tempo di residuo di ricarica cioè quanto manca a una carica al 100% quando invece i trasmettitori sono scollegati dalla base l'informazione che viene data è una stima dell'autonomia del singolo trasmettitore della batteria del singolo trasmettitore ciascuno delle basi di ricarica degli alloggiamenti comunque è dotato anche di una barra led quindi senza dover per forza aprire la pagina web disponibile di fatto tramite l'assess point apt che abbiamo visto poco fa c'è la possibilità di vedere lo stato delle batterie semplicemente tramite una barra led a 5 segmenti l'altro aspetto importante di queste charging station che si chiamano ncs 2 4 e 8 rispettivamente è che sono anche degli oggetti che permettono la configurazione del sistema di fatto inserendo nei rispettivi alloggiamenti che sono numerati da 1 a 8 nel caso del modello più grande i singoli trasmettitori non solo si fa la ricarica ovviamente delle rispettive batterie bensì premendo il tasto link per almeno 10 secondi quello che si fa è di fatto è programmare associare i singoli canali al sistema e quindi fare l'associazione tra i trasmettitori la base di ricarica e l'assess point che viene preventivamente associato sempre tramite pagina web alla base di ricarica quindi tramite questo tasto link si è un'associazione immediata dei trasmettitori che come suggerisco a volte ad alcune persone che mi hanno incontrato e ho avuto l'occasione di parlargli del sistema diventa una soluzione per anche la gestione di sale più sale di centri congressi dove in base alle esigenze si programmano anche da personale non addetto non formato in modo specifico tecnicamente quindi per diciamo non addetti ai lavori c'è la possibilità quindi di fare l'associazione dei canali tramite la semplice pressione del tasto a ciascuna delle sale e quindi gestire dinamicamente i vari trasmettitori nelle varie sale in base alle esigenze questo è uno screenshot con l'interfaccia web di monitoraggio e una sintesi di quanto abbiamo detto in particolare del monitoraggio dello stato delle batterie anche in questo caso torna utile lo strumento sureweb device discovery che abbiamo visto prima per quanto riguarda diciamo la localizzazione di tutti i dispositivi in una rete e poi l'apertura delle rispettive pagine web il Dante controller per l'incrocio diciamo dei canali della metrice virtuale Dante e infine vediamo un esempio di applicazione che in certo senso sintetizza la costruzione di un sistema MX wireless che è costituito come dicevamo da una base di ricarica nella quale vengono alloggiati fino a otto trasmettitori a ciascuna base di ricarica vengono associati uno o due access point e questa configurazione trasmettitore base di ricarica e access point costituiscono la configurazione di una singola sala il tutto associato eventualmente tramite Dante controller a degli ani come quelli della serie MX wireless da otto canali o gli ani da quattro canali che abbiamo visto prima o DSP in generale in grado di ricevere canali Dante permettono la creazione di un sistema che essendo implicitamente è un sistema di rete ovviamente può essere integrato anche con sistemi di controllo di terze parti ultimo argomento molto rapidamente è una novità che è stata formalmente lanciata ad ISE circa un mese fa è l'automix Rintel Mix P300 di Shure un oggetto molto interessante perché è un processore di fatto Dante dotato di 10 canali di ingresso Dante due uscite Dante due canali di ingresso analogici e due uscite analogiche una porta USB che corrispondono a un ingresso e un uscita per l'interconnessione con sistemi di teleconferenza e poi un ulteriore 1 più 1 quindi un ingresso e un uscita su jack da 3,5 millimetri per idealmente l'interconnessione con sistemi mobile come telefoni cellulari la cosa interessante è che questo prodotto questo mixer che poi sostanzialmente occupa mezza unità REC è alimentato direttamente dalla rete attenzione però con alimentazioni tipo più e plus quindi da 30 watt però unito alla facilità di installazione che abbiamo visto dei sistemi MXA può permettere la realizzazione di una sala veramente semplicemente tramite un piccolo switch ad esempio un 8 porte più e plus presente al nostro catalogo del del marco Extreme Networks ma ovviamente questo è valido anche per switch di terze parti un MXA 910 o un 310 un P300 Intellimix che fa da TSP e sono in grado di realizzare veramente con cablaggi minimi una sala conferenza di fatto il P300 rappresenta complessivamente un DSP 14x6 Dante e sono implementati su interno 8 cancellatori d'eco quindi i primi 8 canali d'ante sono dotati anche di cancellazione d'ecoacustica di soppressione del rumore di controllo automatico del guadagno tutti questi 8 microfoni vanno a un automix che poi viene mixato eventualmente tramite un matrix mixer da una matrice più grande la cosa interessante di questo prodotto valida anche che era valida anche per gli altri della linea MXA MX Wireless è l'interfaccia web questo è uno screenshot della pagina web principale che tra l'altro rappresenta uno schema blocchi intuitivissimo del funzionamento di questo DSP dove con un semplice clic è possibile accedere all'equalizzazione alla cancellazione d'eco ai setting dell'automixer o del matrix mixer andare a editare eventualmente velocemente anche le etichette che identificano gli ingressi e le uscite e quindi permettono veramente una programmazione di una sala conferenze in pochi minuti soprattutto chissà ovviamente cos'è una sala conferenze cosa sono i singoli oggetti software che ho appena nominato i oggetti DSP che ho appena nominato ovviamente la configurazione diventa veramente banale anche per questo oggetto è disponibile una pagina web online che permette di simulare come vi dicevo quella che è l'interfaccia di un oggetto concreto e potete vedere quindi in ogni momento come cosa vi aspetta se un giorno acquisterete un oggetto di questo tipo questo link ovviamente a vale del webinar verrà condiviso gli argomenti a disposizione preventivati per il webinar sono scusate sono terminati e non so se da parte vostra ci sono delle domande che potete farmi eventualmente in chat se non ci sono domande vorrei provare a sottoporvi un sondaggio al quale potete rispondere semplicemente cliccando direttamente sullo schermo quando tutti voi avrete votato io sono in grado di vedere le statistiche poi posso procedere con alcune delle domande successive che avevamo previsto come sondaggio hanno votato il 78% dei partecipanti se nessun altro ha intenzione di votare direi che possiamo passare chiudere il sondaggio passare alla domanda successiva condivido però con voi il risultato e vi ringrazio perché la maggioranza di voi è reputato insomma il webinar interessante passiamo alla seconda domanda quali argomenti potrebbe interessarti per un prossimo webinar questa domanda è a mio parere ancora più interessante perché ci dà modo di poi sviluppare eventualmente dei webinar in base alle vostre esigenze concrete ha votato il 70% di voi e i risultati sono quelli che dovreste vedere in sovraimpressione vedo che la maggioranza di voi vorrebbe un approfondimento sul tecnologia o sul software un 38% di voi un approfondimento generale sul tema audio video in rete che vi anticipo con tutti i problemi dell'organizzazione che ne deriverà però è in piano per quest'anno un corso però non come webinar ma sia un corso che verrà molto probabilmente fatto nella nostra sede di Milano oppure di Roma se c'è la possibilità da entrambe le parti al 13% invece ci sono suggerimenti per la progettazione audio video bene ultimo risultato scusate ultimo risultato ultimo sondaggio come siete venuti a conoscenza di questo webinar giusto per fare una verifica di come stanno funzionando i nostri strumenti di comunicazione quasi tutti hanno votato ok la maggioranza di voi direi quasi 90% ovviamente è venuto a sapere di questo di questo webinar tramite le newsletter di frase va bene con questo direi che abbiamo terminato il webinar di oggi volevo solo informarvi che il prossimo webinar sarà in realtà una certificazione vera e propria online nelle date del 29 scusate 27 e 29 marzo come diciamo certificazione parte 1 e 24 e 26 aprile come parte seconda certificazione vi dicevo che avverrà online e prevederà anche intanto una partecipazione minima e prevederà anche un test al valle del del webinar che è mandatorio per poter passare alla seconda fase con questo vi saluto vi ringrazio per l'attenzione e soprattutto per aver contribuito anche a raccogliere un po' preferenze e vi saluto buona giornata a tutti e vi saluto a tutti Grazie.